boom avete letto bene è stata finalmente annunciata la canon eos r1 un modello che era sì nell'aria ma la casa madre non aveva mai dato ufficialmente il via adesso invece sappiamo che questa macchina arriverà sappiamo che sta venendo testata sappiamo che dovrebbe essere qualcosa di veramente fenomenale seguite questo video fino alla fine perché vi dirò tutto quello che c'è da sapere ovvero molto poco perché per adesso la casa nipponica non si è sbottonata parecchio ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono cesare mi occupo di fotografia per le aziende ormai da tanti anni ovviamente una notizia come questa non poteva assolutamente passare inosservata e quindi siamo qui a parlarne motivo per cui vi invito a iscrivervi subito al canale per rimanere aggiornati e a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate su questo nuovo annuncio ma andiamo a vedere esattamente di cosa parla l'annuncio canon eos r1 annunciamo lo sviluppo di eos r1 una fotocamera eos mirrorless di punta che ti farà fare un passo avanti allora ragazzi per quanto è stata attesa questa fotocamera per quanto se ne è vociferato ma erano tutte voci non ufficiali io credo che potremo tranquillamente definirla la fotocamera migliore di tutti i tempi quantomeno fino a ora perché questa fotocamera avrà delle caratteristiche molto simili a quelle di eos r3 quindi una macchina di cui già siamo nell'olimpo della fotografia ma inevitabilmente avrà qualcosa di più perché sarà la vera ammiraglia di casa canon e quindi finora ci avevano somministrato r5 e r3 macchine incredibili è per carità io personalmente ho provato r5 ma sono rimasto fulminato da quella macchina è una cosa incredibile poi non è una macchina che a me interessi personalmente acquistare l'ho nolleggiata due volte non mi interessa acquistarla perché è una macchina con delle caratteristiche che per me non sono vantaggiose così come non non è nei miei pensieri una r3 perché di nuovo è una macchina che nel mio lavoro mi servirebbe a poco a un costo assolutamente proibitivo e quindi non è una cosa che mi interessi comprare però l'interesse accademico c'è sempre e quindi quando vedo che stanno sviluppando una r1 e che quindi questa macchina avrà le caratteristiche probabilmente di partenza di una r3 però poi con degli upgrade dei miglioramenti ecco che la cosa inevitabilmente solletica il mio interesse continuiamo a leggere stiamo sviluppando eos r1 per soddisfare le esigenze e le richieste elevate dei professionisti eos r1 sarà dotata del nuovo processore di immagini digic accelerator oltre a un digic x e a un nuovo sensore una combinazione che permetterà di elaborare dati ad alta velocità per un tracking autofocus avanzato e una migliore qualità delle immagini dunque stiamo parlando di cose che vengono fatte ogni volta ogni volta che esce un nuovo modello ci sono magari dei piccoli aggiornamenti su queste cose però qui stiamo parlando di miglioramenti che promettono di essere epocali mi ricordo il comunicato in inglese parlava di miglioramenti drammatici questo significa che ci aspettiamo qualcosa di veramente sensazionale sia sotto il punto di vista della qualità d'immagine sia sotto il punto di vista dell'autofocus saremo in grado di mettere a fuoco in maniera più precisa e probabilmente più facile perché comunque una tendenza che io vedo che non sempre mi piace da professionista che ha lavorato con le fotocamere vecchie una tendenza che vedo sempre più spesso è quella di andare a semplificare certe operazioni in maniera tale che letteralmente chiunque sia in grado di fare le stesse cose che fa un professionista navigato quindi questo che cosa significa che ci compriamo una r1 e saremo in grado di fare delle fotografie difficilissime senza nessuna preparazione probabile ragazzi probabile perché con certi sistemi di messa a fuoco con questo sistema di messa a fuoco è molto probabile che chiunque sarà in grado di fare delle fotografie sportive di alto livello una volta che gli viene messa in mano questa strumentazione letteralmente chiunque quindi il talento del fotografo verrà un po messo in secondo piano forse sotto certi punti di vista sì però un fotografo talentuoso con una macchina del genere farà molta meno fatica quindi cerchiamo di guardare i risvolti positivi andiamo a vedere la parte più interessante che forse è l'unico non è neanche un dato è l'unica cosa che ci hanno detto e osr 1 segue costantemente i soggetti negli scenari sportivi anche quando si sottraggono momentaneamente alla vista ad esempio quando si mischiano con gli altri giocatori negli sport di squadra la funzione action priority di recente sviluppo rileva automaticamente il soggetto principale che esegue un'azione specifica come colpire una palla e sposta immediatamente il riquadro af consentendo ai fotografi di catturare i momenti chiave la combinazione del nuovo sistema di elaborazione delle immagini e delle tecnologie di deep learning contribuirà a migliorare la qualità delle immagini quindi vedete più o meno è proprio come vi dicevo nel momento in cui andiamo a inquadrare una scena con questo nuovo sistema è un sistema intelligente più veloce di noi è un sistema che capisce cosa sta succedendo c'è una gara di formula 1 agganciamo una macchina da formula 1 e poi si mescolano tutte il sistema di autofocus continuerà a beccare quella che gli abbiamo detto di beccare è una partita di rugby e c'è una mischia il nostro sistema di messa a fuoco continuerà a beccare il giocatore che gli abbiamo detto di beccare con un insieme di algoritmi che andranno a lavorare in sinergia per rendere questo possibile quindi avremo sicuramente il riconoscimento del viso sicuramente il riconoscimento dei veicoli magari il riconoscimento del numero sulla maglia magari il riconoscimento di chi sta compiendo un'azione specifica quindi se stiamo facendo una partita di basket e c'è un giocatore che sta andando a schiacciare o che sta andando a tirare sicuramente la macchina riconoscerà il giocatore con la palla in mano queste sono tutte cose sensazionali che ci permettono una messa a fuoco più precisa e che ci permettono di andare a lavorare meglio se siamo professionisti del settore come dicevo poc'anzi se noi mettiamo una macchina del genere in mano a un bambino di otto anni probabilmente riesce anche lui a fare una foto perché ormai è la macchina che lavora per noi un'altra cosa di cui si è parlato è un nuovo e più avanzato sistema di riduzione del rumore questa è una cosa molto interessante perché va incontro alle esigenze di mercato di molti professionisti che si trovano dopo in post produzione a dover lavorare con top a 6i o altre tecnologie per andare a ridurre il rumore in macchina ora queste macchine già lavorano benissimo sensore nuovo processori nuovi insomma questa macchina già avrà delle prestazioni superiori rispetto a prima ma con un nuovo integrato sistema di riduzione del rumore è assai probabile che ci ritroveremo con delle immagini scattate con degli iso improponibili che però saranno già pulite in camera quindi salteremo potremo saltare il passaggio ulteriore di andare a ripulirle questo per me è veramente tantissima roba se sarà veramente così perché comunque non c'è dato sapere non ci sono dati ufficiali quindi io sto tirando a indovinare però se dovesse essere effettivamente così sarebbe tanta roba perché significa che io posso scattare le fotografie del mio evento con poca luce in un contesto difficile e sono già maledettamente pronte un'altra cosa su cui è possibile che si voglia lavorare è proprio la connettività nel senso che io scatto tutte queste foto si parla di un grandissimo passaggio di dati quindi io potrei voler trasferire parte di queste immagini subito perché magari sto facendo un evento e bisogna fare far uscire la notizia subito e quindi è possibile che con un nuovo sistema di connettività io sia in grado di buttare fuori le immagini in jpeg più rapidamente rispetto a quanto non avveniva in passato un'altra cosa su cui tutti quanti ci stiamo arrovellando perché ripeto non c'è niente di ufficiale un'altra cosa su cui tutti quanti ci stiamo lambiccando è ma avremo il global shutter oppure no questa è per me per quanto mi riguarda è la più grossa incognita perché se c'è il global shutter questa è la più grande fotocamera di tutti i tempi ma da subito proprio senza neanche aprirla se invece non ce l'ha sono sicuro che avranno messo qualcos'altro avranno messo comunque una lettura più rapida in maniera tale da si parla proprio di questo lettura più rapida quindi cosa potrebbe voler dire non abbiamo fatto il global shutter ma abbiamo dato una lettura del sensore una scansione così rapida che praticamente è come se fosse un global shutter potrebbe essere una cosa del genere un'altra cosa su cui mi interrogo personalmente è la durata della batteria mi domando se questa fotocamera avrà la stessa batteria che abbiamo visto in precedenza o se avrà una batteria di nuova concezione in grado di fornire delle prestazioni più consistenti sul lungo periodo il comunicato parla molto chiaramente di esigenze dei professionisti sportivi e delle produzioni video quindi l'altra cosa che mi domando è come sarà il video di questa macchina sarà chiaramente stellare però quello che mi domando veramente è questa macchina andrà a competere con la whitelist di netflix sarà una macchina pensata anche per realizzare produzioni cinema sarà una macchina che mette insieme la r5c e la r3 perché potrebbe essere una cosa molto interessante a questo punto sono tutte cose che ci domandiamo perché di fatto non lo sappiamo un'altra cosa che mi è frullata nella testa è sto utilizzando attualmente r6 per delle produzioni video è una macchina bellissima mi piace un sacco ma si surriscalda quindi questa è un'altra cosa che mi domando tutta questa potenza di fuoco ma il surriscaldamento come siamo messi sicuramente sono cose che sanno benissimo anche loro e su cui stanno lavorando rimane la nostra curiosità e siamo in fervente attesa di avere maggiori dettagli che purtroppo per il momento non ci sono al che io non posso fare altro che suggerirvi di cliccare il bottone iscriviti qui sotto per rimanere sempre aggiornati perché non appena ci saranno ulteriori sviluppi non tarderemo a farveli sapere vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate stavate aspettando questa fotocamera siete solo curiosi o state pensando di acquistarla magari possedete una r3 ma volete la vera ammiraglia perché finora l'ammiraglia virtuale è stata r3 forse r5 però in questo momento con questo annuncio abbiamo finalmente un benchmark abbiamo finalmente capito qual è la vera ammiraglia non conosciamo ancora le specifiche però per l'hype che c'è dietro per l'attesa che c'è stata e soprattutto visti i recenti sviluppi anche da parte di altri competitor che comunque stanno cercando di tenere la testa avanti credo che sia logico ritenere che canon voglia dare una sonora mazzata al mercato in questo particolare ambito e quindi credo che veramente questa potrebbe essere la migliore fotocamera di tutti i tempi spero spero veramente che lo sia sono impaziente di vedere che cosa tirano fuori e voi fatemelo sapere in un commento qui sotto e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video